Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Meghan Markle mamma davvero spietata, ecco cosa avrebbe rivelato la duchessa in un'intervista rilasciata a Descartes La famiglia reale britannica fa parlare tantissimo di sé, in particolare Meghan Markle, la moglie di Harry In occasione di un'intervista a Descartes, l'ex attrice americana, che ha rivelato come sta impartendo l'educazione al primo figlio Archie Harrison di tre anni La duchessa del Sussex ha rivelato un rituale particolare, che ci fa dedurre come sia una madre davvero spietata Scopriamo di cosa si tratta.Meghan Markle mamma davvero spietata, ecco perché All'indomani dei funerali della regina Elisabetta, Meghan e Harry hanno fatto ritorno in California per riabbracciare i figli I duchi del Sussex hanno dichiarato più volte alla stampa di essere molto gelosi della privacy dei due figli Per questo il nipote della regina e l'attrice americana hanno deciso di andare a vivere lontano da Kensington Palace e di preferire una vita lontana delle regole reali imposte dal palazzo In una recente intervista la duchessa del Sussex avrebbe rivelato Se, Archie, si dimentica di dire per favore o grazie, gli ricordo le buone maniere Si tratta di un particolare sull'educazione impartita da mamma Meghan nei confronti del primo genito I buoni insegnamenti della duchessa Meghan Markle al primo genito La duchessa del Sussex avrebbe insegnato al primo genito Archie di regalare un kit con cracker, acqua e barrette di musli da regalare a chi si trova in difficoltà economica e non può acquistare il cibo Inoltre, sempre nell'intervista a Descartes, la duchessa del Sussex avrebbe rivelato che è davvero importante per lei e per Harry fare crescere Archie come gli altri bambini Per Meghan è molto importante che il primo figlio venga accompagnato a scuola dai genitori e che lo stesso bambino partecipi alle feste di compleanno con gli amichetti Inoltre, il piccolo è iscritto ad una scuola materna dove si apprendono i principi di rispetto per l'ambiente, di educazione emotiva e di gentilezza È stato pubblicato anche uno scatto fotografico in cui il primo genito di Meghan è vicino al pollaio costruito nella residenza californiana L'obiettivo è quello di consentire al piccolo di vivere a stretto contatto con gli animali e con l'ambiente Come si può ben comprendere mamma Meghan è molto rigida ed attenta alla buona educazione e dalle buone maniere dei figli, in particolare del primo genito Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video